Al mio 3 vi farò due o tre imitazioni di Ignazio Larussa, questo personaggio appartenente al mondo della politica italiana, schierato nella fazione di centro-destra, va bene? Un personaggio che, vuoi o non vuoi, piace e comunque fa parlare di sé, ok? Partiamo con la prima imitazione al mio 3, poi alla seconda e alla terza, ok? Mi direte voi qual è stata la migliore. Bando alle ciance, 1, 2, 3, via. Il signor Silvio Berlusconi ha fatto tante cose, diciamolo, non si può non parlare di Berlusconi per quello che ha fatto per questo paese. Io lo devo dire pubblicamente, insieme ai politici italiani, insieme ai colleghi della Camera, diciamolo, Berlusconi ha fatto qualcosa per questo paese, per l'Italia. E qual è l'altro presidente che ha fatto qualcosa per questo paese? Nessuno, nessuno! Seconda imitazione, sempre al mio 3, per voi angioricati utenti di YouTube, 1, 2, 3, via. Diciamolo, Berlusconi ha fatto qualcosa per questo paese, altri presidenti non hanno fatto un cazzo. E lo dico pubblicamente davanti a tutti voi, esemi utenti del tubo, ma esemi politici italiani, colleghi della Camera, colleghi del Senato, Berlusconi ha fatto qualcosa per questo paese. Diciamolo! Partiamo con l'ultima imitazione, sempre al mio 3, per voi esimi gentili utenti di YouTube Italia, 1, 2, 3, via. Quando c'era Romano Prodi al governo, me dispiace doverlo ammettere, ma la politica italiana andava a rodore. E invece con Silvio Berlusconi, questa politica, grazie anche alle sue cattività e alle sue capacità imprenditoriali, si è fatto ben rispettare e ha ottenuto un posto nel ben impaginato mondo della politica italiana. Va bene? Diciamolo! Questa è la politica di Silvio, diciamolo! Grazie utenti di YouTube, il video termina qua, spero che vi siano piaciute, non solo vedete benissimo, ma auspico di avervi strappato delle angelicate risate. Ciao da Ariandro, conosciuto l'italiano.